Tre punti che servono per la classifica e soprattutto per il morale. Lisernia vince e convince. Farina punto a tutto sul 4-2-3-1 sulle quattro bocche di fuoco. Vinci Guerra, Palumbo, Artiaco e Panico in campo contemporaneamente. Undici a trazione anteriore. Dall'altra parte c'è una mediocre Renato Curi-Angolana che regge solo un tempo. Pronti via e Lisernia sfiora il vantaggio con Vinci Guerra con la complicità del portiere ospite. Si gioca ad una porta, quella abruzzese. Artiaco vede e serve sulla corsa Palumbo che da ottima posizione tenta il pallonetto. Palla alta sulla traversa. L'occasione più ghiotta capita alla mezz'ora sui piedi di Panico imbeccato da Vinci Guerra ma il capitano spara su Angelozzi, bravo a respingere con i piedi. Lisernia spinge la manovra dei locali, porta alla conclusione dei Giambattista ma la sua stoccata è deviata in angolo. L'angolana si vede nel finale. Vespa ha un'idea sensazionale che Iommarino prova a sfruttare buc e impeccabile. Ancora il portiere di Lisernia mette una pezza su questo tiro cross di Di Rienzo. Squadre negli spogliatoi. Primo tempo a corrente alternata, ripresa scoppiettante. Complice l'ingenuità di Vespa, già ammonito, commette fallo e lascia i suoi in inferiorità numerica. Con un uomo in più Lisernia cambia marcia. Qui Panico si fa 30 metri, palla al piede, serve Artiaco che sfodera un destro imparabile che termina la sua corsa all'incrocio dei pali. Neanche il tempo di rimettere la palla al centro che i pentri raddoppiano. Questa volta Vinci Guerra ad illuminare Nicolai. Il terzino Goliador supera Angelozzi con un sinistro morbido. Lisernia gioca sul velluto, Fusaro subentrato a Palumbo, pennella per Artiaco appostato sul secondo palo per l'attaccante. Doppietta e applausi meritati. Al ventunesimo gli ospiti reagiscono con Musilli che approfitta di una dormita di Ruggeri per superare Buc. La rete ospite non disunisce Lisernia che con Vinci Guerra trova il poker. La conclusione dell'attaccante viene sporcata da un difensore. Angelozzi non può farci nulla. Il resto è Melina. Lisernia va in golla ancora per due volte ma Artiaco e Panico qui a Monito sono in posizione irregolare. Tre punti e un gioco gradevole. Lisernia fa pace con i suoi tifosi. Un buon viatico in vista del derby con l'Olimpia agnonese.